di conad oltre al prezzo vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona nella nostra linea bagno conad essenzie la delicatezza è di famiglia ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi come il nostro bagno doccia rilassante conad essenzie con estratti naturali la migliore qualità a 1,70 euro bassi e fissi qualità e convenienza che non temono confronti il lavoro sta andando molto bene al momento i pazienti stanno già tutti 8 infondendo la terapia con anticorpi monoclonali dei pazienti che sono presenti al momento alle palme con infezione da SARS-CoV-2 sono stati selezionati gli 8 pazienti che erano in finestra nella finestra adeguata temporale per poter fare la terapia in cui erano presenti dei sintomi lievi o moderati come da prescrizione AIFA tutti i pazienti stanno già infondendo la terapia endovenosa e il lavoro sta procedendo bene è il primo ci tengo a sottolinearlo a ringraziare la direzione generale e la direzione sanitaria di ASL-1 è il primo intervento di questo tipo in Liguria che viene fatto al di fuori dell'ambito ospedaliero normalmente questa terapia si fa in degli ospitali malattie infettive però per la prima volta abbiamo pensato insieme alla direzione strategica dell'azienda che sarebbe stato più semplice operare in un contesto di ambulatorio protetto chiamiamolo perché siamo già comunque in una struttura sanitaria accreditata quindi abbiamo portato la professionalità del nostro personale infermieristico all'interno della struttura e per questo bisogna ringraziare la struttura complessa del personale infermieristico che ci ha dato oggi due infermieri afferenti a tale struttura per poter operare all'interno della struttura con i farmaci ospedalieri e in una sorta di ospedalizzazione domiciliare che era dai tempi dell'epidemia di HIV che non si utilizzava più ma che abbiamo riaperto per l'occasione in questo modo riusciamo a trattare i pazienti nel loro ambiente a evitargli la progressione di malattia e a evitare accessi al pronto soccorso e recovery quindi tutto questo in un bilancio estremamente positivo per il paziente. Ecco in parole povere semplici diciamo così qual è il funzionamento della tipologia di farmaci e quali sono i benefici? I benefici della terapia non anticorpo monoclonale sono anticorpi prodotti dalle aziende farmaceutiche quindi non plasma derivati ma prodotti in maniera sintetica quindi abbiamo un'infusione endovenosa di un farmaco con un altissimo titolo anticorpale che protegge le cellule sane e aiuta il sistema immunitario a eliminare le cellule già infette dal virus quindi il beneficio è quello che il paziente con un'infezione precoce non va incontro a polmonite non va incontro a insufficienza respiratoria e rapidamente vengono anche eliminati o reccedono i sintomi che erano comparsi. Ecco infine è un sistema che potrete anche estendere ad altre eventualità altre venenze simili? Noi con questa prima uscita abbiamo consolidato una squadra abbiamo formato un gruppo abbiamo consolidato una squadra e abbiamo dato una risposta tempestiva come ASL1 alla necessità delle persone siamo stati vicino alla gente vicino ai nostri utenti che avevano bisogno ai nostri utenti più fragili questo non esclude che se un domani ce ne dovessero essere altre necessità per altri pazienti in contesti simili questa tipologia di intervento si potrà ripetere speriamo di no perché speriamo che non ci siano altri focolai in caso di riposo.